Il Consiglio Comunale di Sapri dall'ok ai conti dell'ente ha approvato il consuntivo dell'amministrazione del medico. Passa pertanto e con i voti della maggioranza il rendiconto di gestione 2013 che chiude con un avanzo di amministrazione di circa 425 mila euro. Soddisfazione dal Palazzo di Città e dagli stessi amministratori. Ottimo il dato della gestione che segna un più 207 mila euro. I dati sono ancora più confortanti se si viene in considerazione la massa debitoria liquidata negli ultimi due esercizi. Prosegue spiegano dal municipio cilentano il lavoro di risanamento e consolidamento del bilancio. Essi iniziano a cogliere segnali positivi anche se per il 2014 si segnalano purtroppo ancora poste negative per debiti contratti negli esercizi precedenti per oltre 300 mila euro. Leggendo in prospettiva questi dati emerge il pessimismo per gli amministratori come del resto evidenziato dagli stessi. Finché non sarà assorbita l'intera massa debitoria le somme derivanti dall'avanzo di gestione non potranno essere liberate per migliorare la qualità dei servizi pubblici. Ma come detto i numeri sono in parte positivi. Nuovi finanziamenti, più di 4 milioni di euro per la nuova scuola elementare, l'isola di trasferenza, l'asilo nido e la mitigazione del rischio idrogeologico. E nell'analisi non mancano le critiche alla passata amministrazione, quella guidata dall'ex sindaco D'Agostino. Si continua a lavorare per individuare le soluzioni migliori per i cantieri bloccati ormai da anni a causa di evidenti errori e superficialità politiche. Insomma una relazione del bilancio consuntivo che tratteggia la vita amministrativa del comune di Sapri, programmata dal sindaco del Mediche e i suoi, che ovviamente non trova d'accordo la minoranza di insieme per Sapri. Una relazione dura quella dell'ex sindaco Vito D'Agostino. Ho sancito dal nostro punto di vista cosa non va bene, cioè tutto. Commercio, turismo, l'amministrazione oltre i numeri non è riuscita a mettere insieme nulla. È certo un momento di crisi generale, ha detto D'Agostino, ma i nostri amministratori non hanno e non stanno facendo nulla per emergere e lasciare segnali positivi. A testimonianza di ciò, ha concluso l'ex primo cittadino, basta vivere a Sapri.